fratelli bianconeri e non buonasera a tutti voi dunque stasera voglio fare questo video perché dopo diciamo così una settimana di turbolenze ricevute e date un po dal nostro mister allegri vorrei visto che tutti un po tutti si sono youtuberi juventini si sono chi accaniti chi nei confronti del massimiliano allegri insomma un po tutti hanno detto la loro voglio seguire anch'io questo filone del dico anch'io la mia dunque io avevo visto per qualche secondo la lite tra mister allegri e adani sinceramente sono scenate che a me non piacciono io ne faccio sempre a meno di queste cose generalmente però ho voluto arrivare in fondo perché vedo che su siti forum youtuber ne hanno parlato di questa storia e mi sono andato a rivedere tutta la diciamo così tiritera tra il nostro mister e il signor adani parto da un presupposto che io reputo adani una persona non particolarmente competente di calcio ma questo è un pensiero mio perché ovviamente tutte le persone possono piacere o no io credo che adani sia competente una cosa giusta in materia calcistica d'altro canto però secondo me forse il nostro mister si poteva un po trattenere poteva evitare una scenata sinceramente che non fa bene sicuramente al calcio ma queste purtroppo sono cose che da un lato possono infastidire però secondo me adani ha cercato di punzecchiare troppo anche dopo lo scorso juventus inter dell'anno scorso appunto quest'anno si ripropone lo vai a punzecchiare di nuovo caro adani allora è normale che poi una certa reazione te la vai anche a cercare diciamo così d'altro canto mister allegri secondo me ha sbagliato quando ha detto io ho vinto sei scudetti ho vinto sei campionati insomma sei quelli che ha vinto e tu stai zitto io credo che questo non sia un gran modo di esprimersi però comunque la storia su adani e su allegri non la voglio ripercorrere più di tanto però faccio per dire che certe volte quando vai un po a mettere troppo il becco in casa altrui certe volte è normale che poi il padrone di casa si possa anche rivoltare ci può anche stare come ragionamento credo questo che lo facciamo un po tutti se ci vengono a dar fastidio a casa nostra detto questo però vorrei puntualizzare il discorso su una su un'uscita del nostro mister riguardo alla partita di coppa campioni che abbiamo giocato a torino contro l'aias che ci ha visto meritatamente eliminati a noi meritatamente qualificati a loro in un'intervista credo si tratti di un'intervista ad allegri è stata fatta e sono state fatte alcune considerazioni io non so se è stato adani a fare queste considerazioni o chi però un certo momento allegri ha risposto ma noi con l'ajax abbiamo subito quattro ripartenze soltanto allora io a questo punto devo capire se mister allegri ci fa e allora devo dire che è particolarmente bravo oppure ci è allora un allenatore che dopo aver visto la partita juventus ajax io credo qualunque allenatore si lascia andare a dire noi abbiamo perso per colpa di quattro ripartenze allora io credo che le cose sono tre allora o tu sei ci stai percolando a tutti perché mi sembra un'ipotesi plausibile oppure tu mentre si giocava quella partita pensavi agli affari tuoi e la partita non l'hai vista più di tanto oppure io demon in questo caso e qui chiedo venia sono io che ho smesso veramente di capire di calcio perché mi sovviene dire questa cosa perché altrimenti non vedo non vedo altre motivazioni allora facciamo un passo indietro e quindi mi rivolgo direttamente a mister allegri anche se so che questo video caro mister non lo vedrai mai ma se tu per un caso solo per un caso lo vedessi ti vorrei dire caro mister questo io caro mister sono uno juventino da 58 anni ma di quelli feroci veraci proprio juventini proprio nel dna tendenzialmente io non ho mai criticato gli allenatori proprio perché non mi piace farlo in un allenatore sbaglia come tutti anche loro fanno i loro errori per carità quindi o li critico fino a un certo punto gli allenatori indipendentemente da questo però io mister ti ho sempre difeso non dico a spada tratta perché qualche volta soprattutto dopo certe partite ti ho criticato e anche aspramente qualche volta però il più delle volte ti ho difeso e gli utenti del mio canale lo sanno io sono uno che ho dato delle colpe a te fino a un certo punto perché quando si sbaglia secondo me non è giusto colpevolizzare soltanto l'allenatore ma io tendo a colpevolizzare un po tutto l'ambiente ma detto questo quel che mi dico è caro mister ma come puoi affermare che l'ajax a torino ci ha battuto con quattro ripartenze cioè io credo che non so boh mi permetto di dire che ci voglia un po di coraggio di una cosa del genere perché io la partita l'ho vista tutte l'ho vista purtroppo molto bene a me sembra soprattutto nel secondo tempo che ci abbiano annientati soprattutto nel secondo tempo nel primo tempo qualcosina abbiamo fatto tant'è vero che siamo andati sul riposo sul risultato di 1 a 1 quindi vuol dire che eravamo in bilico e soprattutto avevamo pareggiato 1 a 1 fuori casa quindi eravamo in perfetto pareggio nel secondo tempo per quello che ho visto io io non le ho viste queste quattro ripartenze io ho visto una squadra che per 45 50 minuti ci ha letteralmente nascosto il pallone che hanno fatto in campo quello che hanno voluto perché noi non esistavamo più non c'eravamo più fisicamente di conseguenza se non ci sei nelle gambe non ci puoi essere nella testa ovviamente non sei lucido e ovviamente subisci se poi a maggior ragione di fronte ti trovi una squadra di ventenni che corrono come gli ossessi e praticamente la parte fai una lingua come un capretto perché non hai le forze io credo mister perdonami però io ripeto quello che ho detto cioè o ci stai percolando a tutti e quindi saresti un fenomeno ti faccio i complimenti o o non hai visto bene la partita oppure a quel punto nel caso ti faccio le scuse mio io mie personali vuol dire che io ho smesso di capire di calcio perché uno che dopo una partita come questa mi esce a dire che abbiamo perso per quattro ripartenze cioè misteri sinceri dai ci stai prendendo in giro ci stai prendendo in giro perché io credo che un allenatore non può dire una cosa del genere per carità misteri io ti ho sempre difeso e ti difenderò sempre finché sarai sulla mia panchina però ci stai prendendo in giro perché non esiste dire una cosa del genere cioè dopo che hai giocato 45 minuti forse 50 contro una squadra che ti ha letteralmente annichilito ti hanno annichilito a livello di gioco purtroppo mister i problemi c'è ci sono sono evidenti poi ripeto io non voglio dare tutte le colpe a te perché non le ho mai date tutte a te perché sicuramente anche i giocatori hanno le loro anche la società le loro per carità io non dico questo però mister certe c'è certe uscite vabbè lasciamo stare ma questa uscita secondo me è un'uscita veramente che non lo so non me la spiego veramente non me la spiego cioè io ripeto mister se ci stai percolando devo dire che sei un fenomeno perché sei veramente molto bravo sei veramente molto bravo ti faccio i complimenti però io fossi in te mi guarderei un attimo allo specchio e certe dichiarazioni non le farei più perché secondo me stai facendo delle brutte figure opinione mia personale detto questo signori per un attimo parliamo di mercato parliamo di mercato perché perché è sempre più viva e ricorrente la notizia che circola sul web ma questo non è che ve lo dico io lo vedete dove pare che allegri non sarà più l'allenatore della juventus la prossima stagione nonostante le smentite di agnelli e lo stesso allegri che dicono che rimarrà a torino allora io vi dico il mio pensiero brevemente allora io credo che conte alla juventus non tornerà secondo me non tornerà perché perché conte non lo vuole agnelli non vuole agnelli per come si sono lasciati non vuole agnelli per come conte si è comportato eccetera eccetera questo è il mio pensiero per me conte alla juventus non torna secondo me un allenatore che potrebbe decidere di venire potrebbe essere di di e de champ secondo me ci sono delle grosse possibilità allenatore discretamente aziendalista che segue le direttive del club che gli vengono imposte io credo che potrebbe essere la figura giusta per questa juventus se il nostro mister allegri se ne dovesse andare d'altro canto circola sempre più con insistenza la notizia anche oggi credo che ci sia stato un giornale che l'ha fatta uscire dove paratici per ordine di agnelli avrebbe contattato guardiola e il suo staff da quello che addirittura parrebbe ma secondo me una balla parrebbe appunto che guardiola avrebbe risposto fammici pensare un po e poi ti rispondo ovviamente non gli ha detto così ho fatto per farvi capire la risposta che avrebbe dato guardiola io personalmente non ci credo per nulla all'arrivo di guardiola perché sono convinto che sono allenatori che non sono da juventus per motivi che tante volte vi ho detto io credo che se allegri va via l'unico allenatore che può arrivare secondo me per le stimmate che ha da juventino conosce l'ambiente ha vinto tanto alla juventus è un campione del mondo ha fatto delle bellissime cose secondo me la figura più importante nel panorama nostro che potrebbe andare bene alla juventus secondo me è Deschamps se allegri va via io sono convinto che arriverà Deschamps detto questo parlando di mercato staremo a vedere non lo so ciò non toglie comunque che allegri ribadisce che vuole rimanere sulla panchina della juventus allegri continua a ribadire che lui rimarrà la juventus per lo meno anche l'anno prossimo quindi fino a scadenza di contratto vedremo che succederà perché sono veramente curioso non vedo l'ora che finisca la stagione veramente per capire che cosa succederà del nostro allenatore però mister fatto questo video ti vorrei dare un consiglio io personalmente ti voglio bene quindi non è non è quello il punto però io credo che non sia giusto cioè diciamo approfittarsene un po troppo del fatto che hai vinto alla juventus perché sì tu alla juventus hai dato sicuramente hai dato però mi permetto di dirti che forse è stata più la juventus a dare qualcosa di importante a te ti ha dato dei grandi giocatori che tu hai saputo sicuramente sfruttare anche se devo dire che qualcuno forse l'hai snaturato un po troppo a mio parere ciò non toglie che i meriti io te li riconosco però secondo me abbi il buon senso di fare uscite con meno platealità e soprattutto cercare di menare un po meno la gente per il naso perché siamo fessi ma siamo fessi perché lo vogliamo fare certe volte non lo siamo completamente fino in fondo auguri mister nel caso dovessi rimanere auguri nel caso te ne dovessi andare